Com'era che mi pensava l'enunziato? Amico. Amico, cosa vi ha dato la società? La società mi ha dato sette belle cose. E quali sono? Umertà, fedeltà e politica per essere umile, fedele e politico con i miei compagni. Falsa politica di usare cose sbirri infame, rispettando il nostro onore, una matita per esigere e transigere la camorra, un rasoio per espregiare i lomani indegni e un cortello per difendere l'onore della società. Quattì la croce con la mano dritta. Quiste dovere i miei occhi ma spetta. passate di una strada troppo stritta. E me paroli non ci das direttà. di una strada troppo struttura. E ora, bello mio, darà signori. di una strada troppo struttura. E ora, bello mio, darà signori. Detti, amore, tecchino, che incivoli. Tu sai qual è la legge dell'onore. di una strada troppo struttura. E ora, bello mio, darà signori. Ognuno aveva pari un suo dovere. L'anima Dio ti vorrà comandare. di una strada troppo struttura. E ora, bello mio, darà signori. 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 Fatti la croce per Teresita di Ambrosino e per tutti gli uomani. di Ambrosino e per tutti gli uomani. D simbolo di Ambrosino e per tutti gli uomani.